Siamo arrivati alla fine del lavoro degli animali giovani, ho fatto avanzare al centro del ring cinque animali, tengo oggi la di te della prima categoria, un animale veramente molto molto interessante, della completa, grandi caratteri davanti, ottima struttura. L'animale che segue il campionese è una seconda categoria, un animale veramente molto molto bello, un animale con grossi caratteri davanti, ottima grossa, distinzione, già a seconda su un uomo, vi avuto molto bene sull'altro interno. Al centro, un altro animale molto ben costruito, sugli altri strumenti, la linea d'orso lombare, la forza dell'interno, arriviamo le due mani del ultimo, il mio amico, una campionese della sua riserva, per arrivare la campionese di gli ottimi altri, un animale con grossa, 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 un animale che è spolizionato, nonostante sia un animale che deve ancora far correre, notato a credere, ottimo gli altri, buonissimi anni, oltimo, 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 a ribasare in tutte queste queste persone, 20 animali, sceglierò la campionessa, la riserva, Grazie 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 Grazie